ehi questa volta mi serve della psaico per avere le visioni eccola oh cielo è così pura sarà un viaggio interessante tu vai a caccia solo che le tue prede non sono animali né uomini ma qualcosa di diverso forse qualcosa di più degli umani ma di che si tratta vedo un uomo vestito di bianco si erge sopra la tua preda e dice qualcosa difficile da capire però ci provo dice z 2 47 ripristino impostazioni di fabbrica codice di autorizzazione z 5 3 k poi cade e resta immobile dovevo aspettarmelo tu indichi e io sparo semplice ed efficace ok grazie a tutti grazie a tutti